Bella ragazzi, coeghiotto durante la sosta delle nazionali e secondo me è arrivata l'ora di fare il bilancio dell'apporto che hanno dato per ora i giocatori acquistati dalla Lazio durante l'estate, quindi dalla copiata Lottito e Tare e appunto questa sosta secondo me sancisce un po' la fine della prima parte di stagione sono state giocate una decina di partite tra campionato e le varie coppe ed è arrivata l'ora di dire se gli acquisti fatti questa estate appunto dall'ottito e Tare hanno dato l'apporto che ci aspettavamo, almeno un apporto sufficiente, allora andiamo per gradi partiamo dall'acquisto più costoso fatto dalla Lazio questa estate ed è appunto Manuel Lazzari Manuel Lazzari è terzino destro diciamo in un centrocampo a 5, centrocampista a destra è stato preso da alternare a Marudic ma più che altro per essere il titolare, l'uomo in più che è mancato lo scorso anno pagato circa 9 milioni più il cartellino di Alessandro Murgio e quindi diciamo l'acquisto più importante che tutti i tifosi si aspettavano, per ora ha giocato più del 50% dei minuti giocati finora dalla Lazio quindi è l'unico per ora giocatore nuovo acquisto che è stato impiegato più del 50% dei minuti giocati è partito come titolare alle prime giornate ma nelle ultime sta perdendo la titolarità in campionato ha giocato in Europa League con Ren ma in campionato abbiamo visto nelle ultime partite spesso giocare a Dan Marudic il tanto criticato Marudic l'anno scorso. Quindi diciamo che Lazzari per ora sta deludendo le aspettative o meglio è appena sulla sufficienza scarsa rispetto alle aspettative che noi tifosevamo su di lui Marudic speravamo tutti di non vederlo più, comunque di vederlo solo ogni tanto invece sta giocando quasi più Marudic rispetto a Lazzari in campionato e questo non è assolutamente una cosa positiva. Io mi aspettavo molto di più da Manuel Lazzari sta pagando lo scotto del salto di qualità da giocare nella Spal a giocare nella Lazio ma diciamo che le speranze sono tutte positive, sono convinto che comunque andrà a migliorare e deve assolutamente migliorare perché abbiamo bisogno di Manuel Lazzari Poi il secondo acquisto, Vavro, Denis Vavro, pagato 11-12 milioni dal Copenhagen è arrivato giocatore con esperienza già europea, internazionale, buoni piedi e tutto però purtroppo non ha mai giocato in una difesa 3, per ora sta deludendo tantissimo solo il 30% ha giocato dei minuti totali giocati, solo due presenze da titolare quindi per ora diciamo che Vavro è un acquisto fallimentare per ora anche con Ren comunque ha giocato male, forse è stato provato con Ren a partita in corso come centrale al posto di Acero e quindi chissà che magari Vavro sia un vice Acerbi sicuramente l'ho visto meglio giocare da centrale che invece giocare a destra o a sinistra in una difesa 3 però per ora Vavro ha deluso molto perché comunque è un acquisto pagato già tanto è arrivato già non come una scommessa ma come un giocatore già valido, già pronto per ora sta deludendo, mi raccomando fatemi sapere anche la vostra nei commenti su tutti gli acquisti poi Johnny, Johnny è appena al di sotto di Vavro come percentuale di minuti giocati intorno al 25%, ha giocato titolare contro l'Inter, contro il Kluge diciamo che si è visto tecnicamente che è bravino però deve crescere ancora tanto diciamo che Johnny non era arrivato come Vavro, come Lazer con aspettative altissime però anche lui per ora sta fallendo diciamo ecco ci aspettiamo sicuramente di più perché sulla sinistra aspettando Lukaku serve un'alternativa valida a Lulic non considerando Durmisi che sembra un giocatore fuori dal progetto poi per il resto vabbè a Decani ha giocato pochi minuti ma penso che non sia un giocatore che farà parte di questo progetto voglio dire non mi sembra un giocatore che Inzaghi prenda molto in considerazione però speriamo possa fare di più anche perché si dice un gran bene di questo giovane le qualità ce le ha, speriamo che possa comunque dare una mano perché siamo solo tre in attacco, un quarto valido ci servirebbe però per ora anche qua un acquisto voglio dire fallimentare perché se questo è il quarto attaccante della Lazio beh storgo un po' il naso voglio dire se vogliamo lottare su tre fronti serviva un quarto attaccante in più oltre a Caicede Immobile e Corea, i soliti noti e poi l'ultimo Andre Enders che vabbè non è proprio un acquisto è un acquisto che avevamo già in casa per ora non ha giocato neanche un minuto ad Auronzo l'aveva fatto bene però speriamo possa comunque giocare anche se lui diciamo un trequartista centrocampista in quel ruolo lì ne abbiamo già tanti però magari speriamo di vederlo almeno qualche minuto magari in Europa League vediamo, vediamo, Coppa Italia ecco, comunque un giocatore che tecnicamente c'è quindi io appunto mi farebbe piacere vederlo ogni tanto però per ora il mercato della Lazio si sta rivelando insufficiente non voglio dire fallimentare perché comunque Lazeri qualcosa ha dato poi è presto, è presto per valutare tutti però per ora un mercato sicuramente insufficiente che conferma il mio voto che avevo dato a fine mercata avevo dato 5,5, 5, adesso non mi ricordo comunque per ora è un mercato insufficiente questo dimostra la solita storia che l'Otito, non sto parlando di Tare Tare fa quello che può, fa fin troppo l'Otito non vuole secondo me crescere il tanto fantomatico, famoso salto di qualità che tutti gli anni dice la Lazio non lo fa mai non lo fa mai e questo da tifoso per me appunto ne soffro molto niente ragazzi fatemi sapere la vostra nei commenti like al video, condividetelo seguitemi su Instagram primo link in descrizione stasera forse ci sarà un po' spartita ho fatto un sondaggio su Instagram votate appunto seguitemi su Instagram e dovrei commentare Francia-Turchia commenterò il secondo tempo perché io lavoro fino alle 9.30 quindi poi riuscirò a vedere il secondo tempo e l'Under 21 gioca alle 18.30 quindi non posso vederla non ci sarà il video comunque mi raccomando iscrivetevi al canale like al video bella grazie a tutti